E' Alessio Planeta, amministratore delegato e responsabile tecnico delle aziende agricole Planeta, il vincitore del prestigioso titolo di Winemaker of the Year, assegnato nell'ambito della 24esima edizione del premio Wine Star Award, portando così l'Italia in vetta alla classifica dopo 16 anni. Ogni anno Wine Enthusiast, la più rinomata rivista nordamericana specializzata in enologia, nomina i membri più influenti dell'industria del vino, dei liquori e delle bevande per l'assegnazione annuale dei One Star Awards, uno dei più ambiti riconoscimenti enologici in America. Grazie a questo riconoscimento internazionale, Planeta è il quarto italiano a conquistare il titolo. E' negli anni 90 che Alessio Planeta assume le redini dell'azienda tra le più importanti in Sicilia, con 371 ettari di vigneto e 7 cantine dislocate in 5 territori, Menfi, Sambuca di Sicilia, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo, dedicandosi all'approfondimento della storia della Sicilia e della sua viticoltura, con l'obiettivo di portare avanti il lavoro iniziato dallo zio Diego Planeta e lanciare i vini siciliani sulla scena internazionale. Nel 1995 porta sul mercato le prime etichette Planeta, tra queste l'ormai identitario Chardonnay, aprendo le porte per il neonato brand familiare ai vitigni non autotoni della Sicilia e iniziando una diversificazione che è diventata nel tempo un tratto distintivo del gruppo. Capo enologo dell'azienda dal 1998, oggi Alessio Planeta gestisce una produzione che conta 2,4 milioni di bottiglie l'anno, a cui si aggiungono la coltivazione di ulivi, mandorli e ceci, secondo una filosofia imprenditoriale spontaneamente orientata alla sostenibilità, basata sulla profonda conoscenza delle tecniche di coltivazione e di valorizzazione della biodiversità. Sono profondamente onorato del premio che Wine Entusiasta ha voluto riconoscermi quest'anno e che condivido con la mia famiglia e tutti i nostri dipendenti, grazie ai quali abbiamo costruito giorno dopo giorno e con grande impegno, dedizione e passione la nostra azienda, ha dichiarato Alessio Planeta. Il prossimo anno celebreremo i 30 anni di attività e avere ricevuto un riconoscimento così prestigioso mi rende orgoglioso del valore che i vini siciliani hanno saputo conquistarsi nel mondo.